Quando ero piccola avevo delle visioni e ogni volta che finivano qualcosa mi rimaneva impressa nella mente. Cosa vedevi? Vedevo una suora. Che cos'è? Fini di Gteo. Ma Dio finisce qui. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen, 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 amen. Facciamo un giro così vediamo quali sono magari i punti dove andiamo poi appena a Sarabuio. È immenso. Sì. Guardiamo prima sopra. Ti faccio anche vedere dove, nel punto dove io avevo trovato la medaglietta. Vai, vai pure. Ah, è freddo qua. L'altro è pieno d'acqua qua. Ah, è pieno d'acqua perché arrivano appunto. Sì, sì, sono in filtrazione. Ogni volta che vengo in questo posto è pazzesco perché cambia sempre. È sempre più o più distrutto, mobili in giro, graffiti ovunque. Cioè, sta proprio degenerando. Intanto spostiamoci da qua. E lì è il punto dove io ho trovato la medaglietta. Qua, in questo casino. Sai perché trovarono la medaglietta? Eh, infatti, era per qua. Io camminavo. Grazie. 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 Grazie a tutti. Ci sarà qualcuno che poi ha voglia di farti sentire? Cosa c'è? Hai sentito? Cosa? Volevoci. Voci? Sì. Dove sei venuto? No. Ma voci di che? Persone? No. Giù in fondo là io ho registrato delle anomalie. C'è stato anche un rumore forte. in quella stanzina là. Qualcuno può fare un rumore? Sì. 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 Io ti direi, ma adesso sono tranquilla, ma... Perché c'è ancora luce? Sì. Mi traccomo un po' di faticare. L'ho fatto a pulire. Accedo il capodone. Prendi a piano perché sento che vuole fuori. Sì. C'è qualcuno? Mi ricordo che qua, a un certo punto, il K2 brillava e poi c'era stato un botto allucinante. Se c'è qualcuno puoi riluminare quello strumento che è in mano pravia. Lo puoi riluminare, lo strumento? Provera un'allica? Sì. Grazie. Oh, si è riluminato. Cosa? Si è riluminato. Ah, aspetta. Puoi rifarlo? Puoi riluminare lo strumento? Oh, quello qua è qui! Hai visto? Mi sono mostre, sei riluminato. Torna indietro. Chuori. Hoca. Hoca. Si Рimmo, puoi riluminare lo strumento. Che c'è una pala? E' un bruciato qualcosa, qui non lo so e non voglio neanche cercare, ma perché hanno sfondato questa roba qua? Il K2 è accesa? Ma... Non è passato qualcosa davanti alla telecamera qua? Forse serio? Si, mi sembra aver visto, non lo so, poi devo riguardare, ma è passato come un fumo, qualcosa, una roba bianca E io ho avuto una sensazione brutta Veramente? Si, ti ho appena detto, non ho avuto una bella sensazione qua dentro e ho avuto come dire, un brivido Grazie 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 Oh mio Dio, quel bambino lì? Che c'è qua? Lo puoi illuminare questo strumento? Hai un rumore? Che brutta roba che è questa stanza. Cos'è stato? L'hai sentito? L'hai sentito che brutta è questa stanza. Cosa c'è? Ma dentro è la stanza? No, no, sì. Sì, sì, sì. Quello dei passi. Ma non che oltre o fuori, ma dentro è la stanza. Ma c'è qualcuno che corre qua? Cos'è? Cos'è? Sì, anch'io l'ho sentito. Puoi passare qua vicino a illuminare questo strumento? Puoi toccare anche Claudia. Dai, venite qua. Passa vicino lo strumento che ha Claudia. Tanto lo sappiamo che qualcosa c'è. Io qua avevo trovato la medaglietta con il mio nome, qui forse in uno di questi, non in questo piano, in un piano sotto, forse avevo registrato una figura dalla finestra. Quindi sappiamo che ci siete. No, no, un altro, che io me ne sono accorto non lì, meno male, me ne sono accorto poi, però magari la vediamo questa sera. No, 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 anche no. E l'ho detto, potete fare un rumore, potete far sentire la vostra voce, potete illuminare lo strumento, potete toccare o me o Claudia. Sì, l'è in fondo, eh. Fallo vicino a noi il rumore. Di nuovo. Lo sento di tu. Sì, sì. Bravo. Puoi far sentire anche la tua voce? Illumina lo strumento. C'è qualcuno? Chi? Chi? Chi è capitato? Guarda, guarda. Stai guardo? Chi è capitato di illuminare? Sei qua con noi? Porca miseria! Noi più tardi saremmo di nuovo qua, anche in questa stanza Va bene? Si è illuminato, eh? Si è illuminato qua? Poco, ma si è illuminato Quindi ti fa piacere la nostra presenza? Non so se è un bel segno o no Porca miseria, guarda Ok, mettiamo il giro